Il 10 sulle spalle e il verde l'oro sulla maglia. A chi pensate? Pelé, Zico, Ronaldinho, Neymar o Marta? Marta Vieira da Seuva è una delle migliori giocatrici al mondo, definita addirittura la Pelé con la gonna. Con 17 reti realizzate, è la migliore marcatrice nella storia dei mondiali femminili. Per la FIFA è, sei volte, la migliore giocatrice al mondo. Nata il 19 febbraio del 1985 in un piccolo paesino del nord-est del Brasile, era l'unica bambina a giocare a calcio, il che non è difficile da credere, visto che fino al 1981 in Brasile il calcio femminile era vietato. Suo padre lascia la famiglia quando lei aveva solo un anno. Crescerà con la madre, Portinaia, e i tre fratelli. A soli sette anni Marta si innamora del pallone, e da quel momento non lo lascerà mai più. La svolta arriva quando 14enne viene notata dalla squadra femminile del Vasco da Gama, durante un provino. I tecnici rimarranno stregati da quel piccolo tornado. Il contratto è assicurato e anche un alloggio a Rio per i suoi familiari. Quattro anni più tardi, nel 2004, Marta decide di volare verso l'Europa, approdando all'Umea in Svezia. Scelta decisamente azzeccata, visto che nelle successive quattro stagioni segnerà ben 111 gol in 103 partite. Portando a casa quattro scudetti e una Coppa UEFA. Marta è davvero un fenomeno, addirittura uscirà un documentario intitolato Marta, la cugina di Pelé. Marta è una bomba, è davvero instancabile. Addirittura nel 2009, nei tre mesi di pausa dal campionato americano, firmerà un contratto con il Santos. E in 14 partite riuscirà a segnare 26 reti, portando a casa Coppa Libertadores e Coppa del Brasile. In America il suo nome riempie gli stadi. Attualmente è l'attaccante dell'Orlando Pride. Scommetto che vi state chiedendo, con questi risultati chissà quanto guadagna dagli sponsor? Non proprio. Agli ultimi mondiali in Francia, la numero 10 del Brasile ha deciso di non avere sponsor ai piedi. Nessuna partnership. Ma perché questa decisione? Semplicemente perché gli sponsor, i maggiori sponsor sportivi mondiali, le offrivano contratti ridicoli rispetto ai colleghi maschi di pari livello. Tanto per capirci, Neymar guadagna 269 volte più della brasiliana. Vi sembra giusto? Per questo sulle sue scarpe applicherà i colori rosa e azzurro, per promuovere la campagna Go Equal. Pallone uguale, campo uguale, regole uguali. Ma Marta non è ingorda, non vuole la scena tutta per sé, anzi vuole dare spazio alle nuove generazioni. Saranno proprio loro a dover portare alto il nome del calcio femminile e del Brasile. Le sue parole arrivano dal cuore. Non ci sarà una Marta per sempre. Il calcio femminile per sopravvivere ha bisogno di voi. Non vai tè una formiga per sempre, non vai tè una Marta per sempre, non vai tè una Cristiane. E il football femminile dipende di voi per sopravvivere. Quindi pensi nisso, valorisi mai. Sono state queste le parole che ha utilizzato per salutare il Mondiale 2019, dopo la sconfitta con la Francia. La sua storia è una vera e propria lezione di determinazione per tutte le giovani ragazze che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio. Ambasciatrice Unicef e simbolo di beneficenza. Carisma e personalità dentro e fuori dal campo. Questa è Marta.